Siamo arrivati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. In primo piano la cronaca tre auto a fuoco nella notte a Sulmona torna così l'ombra del piromane. Dalle Marane avvia Orazio queste le strade interessate dagli episodi di cronaca ma sentiamo tutto nel servizio di Andrea D'Aurelio. Notte di piromani e di auto che prendono fuoco. Un risveglio tutt'altro che tranquillo per Sulmona dopo i due episodi di questa notte. Dalla frazione Marane a via Orazio sono due le auto andate in fiamme nello stesso arco temporale fra le tre e le quattro e fra le cause che hanno provocato l'incendio potrebbe esserci il dolo. L'autore dei due incendi quasi sicuramente è lo stesso ma sta ora ai carabinieri della stazione di Sulmona che stanno indagando sul caso risalire alla sua identità. Due boati e forti rumori hanno svegliato i residenti nel cuore della notte. Nell'era 2.0 tutto è stato subito postato sui social. Abbiamo sentito una forte esplosione che ci ha fatto saltare dal letto e poi tanto fumo raccontano gli abitanti di via Orazio. L'auto presa di mira è stata avvolta dalle fiamme che poi si sono propagate anche nella vettura parcheggiata nelle vicinanze. Erano circa le 3.14. Lo stesso copione è stato utilizzato poco prima nella frazione Marane dove anche lì un'auto ha preso fuoco improvvisamente e pensare a un evento accidentale nel giro di pochi minuti è davvero improbabile tant'è che già si batte la pista dell'incendio doloso. Sul posto in ambito delle zone sono intervenuti vigili del fuoco di Sulmona e quelli di Popoli per domare le fiamme. In via Orazio davvero si è evitato il peggio perché le fiamme si stavano propagando anche nei balconi mettendo a rischio le abitazioni. L'incendio alle auto non finiscono mai ma per gli ultimi episodi come quello che avvenne nella traversa di via Montesanto alcuni mesi fa la polizia ha consegnato una lunga informativa alla magistratura. Ci sarebbero non pochi indagati per i fatti avvenuti recentemente. Ora resta da capire chi è il piromane che questa notte è dato fuoco a due auto che poi per forza di cose sono diventate praticamente tre. Resto lasciamo la cronaca passiamo ad altre ci occupiamo di contributi per le aziende biologiche la regione indietro di tre anni chiamata a raccolta per indire una class action. Sentiamo nel servizio. Una class action contro la direzione dell'assessorato regionale dell'agricoltura chiedendo i danni per i mancati investimenti e le spese che non saranno rimborsate. E questa è l'iniziativa legale che sta per avviare il presidente del Gallo Abruzzo Italico Vincenzo Margiotta annunciare questa mattina in conferenza stampa a Raiano nella sede di Terra Antica assieme al professor Fausto Ruscitti. L'ultimo contributo della regione è arrivato nel 2015 e sono tre anni che l'è intellati tante costringendo le aziende a fare salti mortali. Le aziende che scelgono il biologico hanno bisogno dei contributi perché si abbassa la quantità della produzione. Una situazione vecchia che va avanti da anni per la quale abbiamo cercato più di volte di giustificazione e quindi di giustificare la regione in particolare l'assessorato dall'agricoltura perché nutrivamo la speranza sensata che chi di dovere si facesse portatore delle nostre necessità e invece ad oggi dobbiamo riscontrare che malgrado tutte le rassicurazioni che nel corso dei mesi ci sono state date oggi siamo in un ritardo assoluto che comporterà la perdita da parte della regione Abruzzo di circa 50 milioni a mio parere che saranno restituiti all'Unione Europea ma soprattutto la perdita della Valle Peligna e delle aziende agricole della Valle Peligna di milioni di euro che molti dei quali già spesi. Altro versante è quello del Gall, coi fondi del PSR e il piano di sviluppo rurale che non arrivano per la mancanza dei bandi regionali da 3 milioni di euro per la misura a favore del Gall da spendere entro il 2020 ma entro l'anno vanno impegnate le somme. Stessa situazione sul Gall, il quale io sono il presidente per il Gall Abruzzo Italico, Alto Sangro, noi sono tre anni che andiamo avanti e dietro con l'assessorato per tentare di iniziare a spendere la somma dei 3 milioni che il PSR ci ha riconosciuto per altro secondo in gradatoria e sono tre anni che non troviamo soddisfazione a nulla, siamo addirittura arrivati a garantire personalmente noi componenti del CDA del Gall alcune somme che dovevano essere riconosciute per la progettazione del sistema Gall, la regione fortunatamente qualche settimana fa ci ha restituito almeno questi primi 42 mila euro però a noi mancano 2 milioni 960 mila euro da investire sul territorio e con molta probabilità anche questi 3 milioni riconosciuti entro il 31 dicembre 2018 torneranno a Bruxelles quindi noi chiuderemo di fatto il Gall. Se i fondi non verranno spesi entro il 31 dicembre torneranno indietro alla comunità europea ma Margiotta contesta anche il metodo utilizzato dalla regione per i 25 mila euro assegnati sul fondo dei 48 mila. Su centinaia di domande sono state finanziate 8 aziende tra questi paesetti per un totale di 3,2 milioni di euro. Prima i bandi hanno sempre funzionato con tempi celeri ora è assurdo che ci dicano che la regione non ha personale tuona Ruscitti contro la regione che agevola le grandi realtà a discapito di quelle più piccole. A tutto questo si aggiunge il problema della fauna selvatica che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura. Per Margiotta e Ruscitti basta chiacchiere ora si fa sul serio. Citare in giudizio la regione per ottenere il risarcimento e quindi la condanna della regione ai danni che noi abbiamo già subiti e che subiremo se si dovesse come io sono convinto avverare il ritorno a Bruxelles dei 50 milioni. Adesso il servizio pulizia al comune di Sulmona, al via la trattativa privata, servizio sospeso fino alla giornata di venerdì. Sentiamo tutto nel servizio di Andrea Daurelli. Servizio sospeso per due giorni e da venerdì almeno si spera tutti di nuovo al lavoro e quando si profila per le addette le pulizie di Palazzo San Francesco che questa mattina non si sono presentate sul posto di lavoro perché sospese almeno per 48 ore visto che proprio oggi scade l'appalto con la Puritas. Si sta cercando a ritrovare una quadra con dirigenti e amministratori di Palazzo San Francesco e al momento la soluzione più percorribile è quella di un affidamento per tre settimane in attesa della nuova gara che prevede un appalto di tre mesi nelle more dell'altra gara europea. Una serie di passaggi formali per tutelare i posti di lavoro. In queste ore è preso il via la trattativa privata che dovrebbe chiudersi entro la giornata di venerdì quando il servizio dovrebbe riprendere a tutti gli effetti. Oggi ad esempio sono rimasti aperti i banni pubblici di Viale Roosevelt ma solo per senso di responsabilità dell'addetta. Ho chiesto alla cooperativa di mettere in ferie i lavoratori per questi due giorni in modo tale da non perdere salario spiega il segretario della Filcams CGL della provincia dell'Aquila Luigi Antonetti. Si dovrà poi risolvere il contenzioso fra comune COP 2001 per il mese di novembre 2017 e per il pagamento delle mensilità arretrate che fanno riferimento a dicembre 2017, gennaio 2018, febbraio 2018, marzo 2018, quote di tredicesima, quattordicesima e TFR. Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile, nella giornata di ieri è stato assolto dalla Corte d'Appello dell'Aquila nel processo BIS alla Commissione Grandi Rischi. Soddisfazione viene espressa dal gruppo consigliare di Forza Italia al Comune dell'Aquila. Questa mattina abbiamo intervistato il capogruppo Roberto Junior Silveri. Ascoltiamo. La soluzione in appello dell'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso nel processo BIS alla Commissione Grandi Rischi rende soddisfatta Forza Italia al Comune dell'Aquila. Una sentenza che rende giustizia ma che non cancella anni di calvario. E quanto afferma il capogruppo Roberto Junior Silveri? Chi abbiamo al telefono? Consigliere Silveri, allora una notizia ben accolta da voi. Sì, bene accolta. Una notizia che noi chiaramente non solo speravamo, in cui chiaramente andavamo a credere convintamente. Bertolaso come uomo è stato forse quello che più ha dato negli ultimi almeno 15 anni in questa nazione. Un simbolo, una persona, un simbolo del buon governo. Un buon governo che chiaramente poteva essere fastidioso a qualsiasi altro governo e è diventato un simbolo da abbattere. Purtroppo, sempre per loro, non ci sono riusciti e non ci riusciranno mai. E quindi Forza Italia, espressamente nella sua persona, ha ritenuto opportuno fare questo intervento all'indomani della sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila. Sì, questo è un intervento chiaramente minimo e doveroso. Faremo anche altre azioni chiaramente più importanti che provano a dare un gesto di gratitudine a chi ha fatto tanto per l'Italia, e l'impossibile per la nostra città. Silvelli, dunque, bisogna comunque fare ancora molto per l'Aquila che attende la restituzione delle tasse. Ovviamente ci sono procedure in corso, quindi non le chiediamo nulla su questa vicenda. Comunque, come ripeto, l'Aquila attende ancora molto su questo versante. Quindi lei si attende ovviamente risposte positive nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, vero? Sì, certo. È fiducioso? E più che positive, anche doverose, sì. Siamo fiduciosi anche di un governo che non è, diciamo, il nostro, che non è espressione della nostra linea, però confidiamo il buon consenso di tutti e attendiamo fiduciosi. Intanto è stato convocato il Consiglio Comunale dell'Aquila per lunedì 23 luglio alle 9, Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e per l'aggiornamento del documento unico di programmazione per quanto riguarda il triennio 2018-2020 e l'approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2019-2021. E lasciamo l'Aquila, torniamo nel centro Abruzzo. Il Parco Maiella ribatte alla SOA, la stazione ornitologica abruzzese, che ha diffidato la gestione del Parco Nazionale della Maiella contro l'adozione del nuovo piano. Sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelio. Non ci sta il Parco Nazionale della Maiella a subire le accuse della SOA che nei giorni scorsi aveva presentato una diffida sull'allarme cemento nel territorio dell'ente. Per il Presidente Pro Tempore e Sindaco di Palena Claudio De Miglio si tratta di accuse infondate e ferma intenzione dell'ente parco, spiega De Miglio, intraprendere le necessarie misure legali a tutela del proprio operato e nell'interesse di una comunità locale che da anni attende a un'innovazione politica incentrata e allo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni, economica, sociale ed ambientale. L'ente parco intende inoltre fare luce sulla sospetta e legittima divulgazione di atti e documenti inerenti l'iter di stesura e approvazione del nuovo piano del parco a soggetti terzi e nel merito dichiara di volerne perseguire responsabili secondo le norme di legge qualora ne ricorrano le dovute condizioni. All'intera comunità e popolazione del Parco della Maiella l'ente vuole dare la propria rassicurazione sulla bontà del proprio operato che sarà dimostrato nei fatti e nei contenuti. Dal Parco Maiella arriva quindi una dura condanna per la pesante accusa di cementificazione che il redigendo un nuovo piano del parco vorrebbe licenziare. Adesso ci occupiamo delle patenti per i portatori di handicap. Il sindacato Will chiede alle commissioni di riunirsi una volta al mese. Sentiamo nel servizio di Barbara delle Monache. È necessario che le commissioni mediche delle patenti speciali si riuniscano almeno una volta al mese negli ospedali di Sulmone e Castel di Sangro. Lo chiede Augusto Di Giustino della Will, presidente della regione Abruzza, l'assessore alla sanità e il direttore della ASLA, Vezzano Sulmone all'Aquila. Quello che sta accadendo ci lascia senza parole, scrive Di Giustino. I cittadini che arrivano da noi sono tanti, quasi tutti pensionati, con handicap grave che sono costrette ad aspettare sei mesi per il rinnovo della patente speciale. A munirsi di tre versamenti postali per complessivi 72 euro e fatta la prenotazione all'ufficio patenti speciali, rispettivamente a Sulmone e a Castel di Sangro, devono poi recarsi all'Aquila dalle rispettive commissioni mediche preposte. Commissione che tra l'altro è stata spostata anche con un ufficio fuori città. Tanti disagi continua che non si possono più tollerare. Queste persone hanno la necessità di avere la patente e non possono subire tutta questa burocrazia. Per questo chiediamo che sia rivisto il modus operandi affinché si limitino i disagi. Anche a Sulmona il centro di raccolta del Cogesa. È stata siglata la convenzione ma manca la location. Sentiamo nel servizio di Andrea Daurelli. Anche a Sulmona il centro di raccolta nell'ottica del riciclo ma al momento manca la location. Insieme a 11 comuni della provincia Aquilana e capologo Peligno ottiene finanziamenti regionali 200.000 euro nell'ambito dei fonti FSC destinati alla costruzione della struttura. La convenzione sarà siglata nella sede di Pescara fra il sindaco Anna Maria Cassini e sottosegretario alla giunta regionale Mario Mazzocca. Per il primo cittadino si tratta di un altro progetto, anch'esso deliberato in giunta, il numero 274 del 29 dicembre 2017, al quale si punta un centro di riuso per abbattere la quantità di rifiuti e la cultura dello spreco. Il prossimo passo sarà valutare il luogo strategico dove potrà sorgere. Voglio ringraziare l'ex assessore comunale Alessandra Vella per l'impegno profuso in questo importante progetto che ad oggi l'amministrazione può concretizzare nell'interesse della cittadinanza. Ieri è arrivato il via libera per altri 5 centri di raccolta cogesa dalla Valle Peligni alla Valle del Sagittario fino ad arrivare alla Valle Subequana. Sulmona al momento sigla la convenzione per un centro di raccolta senza ancora aver individuato una localizzazione. L'assessore regionale Lorenzo Berardinetti convoca un tavolo per la protezione delle colture dalla fauna selvatica. Il WWF afferma a tal proposito si tratta di un importante confronto. È indispensabile un quadro reale della presenza di cinghiali nei vari territori e l'uso in primo luogo dei mezzi di dissuasione non violenti, poi di strumenti già collaudati che non aprono la strada ad una caccia indiscriminata. Non ha senso affidare la riparazione di un danno a chi lo ha determinato. È quanto afferma il WWF che parteciperà in quanto associazione che gestisce una serie di riserve regionali al tavolo tecnico regionale permanente per la protezione delle culture e degli allevamenti della fauna selvatica, convocato come dicevamo dall'assessore Lorenzo Berardinetti per domani all'Aquila. Tema dell'incontro sarà un confronto sulle linee di indirizzo per la gestione del cinghiale nelle aree protette che la Regione vuole mettere a punto. Da agosto anche Prezza rilascerà la carta d'identità elettronica. Sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelio. Anche a Prezza arriva la carta d'identità elettronica. A decorrere dal prossimo 1 agosto 2018 presso l'ufficio Anagrafe del Comune di Prezza sarà possibile chiedere il rilascio della carta d'identità elettronica, la CIE, che sostituirà il classico documento d'identità cartaceo. I cittadini che lo desiderano al momento del rilascio della CIE possono esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti. Tale dato non verrà indicato sulla carta d'identità ma trasmesso solo al Centro Nazionale Trapianti. Le caratteristiche, la validità, la durata, le modalità di richiesta prenotazione, la documentazione da legare, il costo e i tempi di consegna sono indicati sul sito del Comune di Prezza. Si tratta di un traguardo importante e di una nuova opportunità per tutti i cittadini prezzani, rimarca il sindaco di Prezza, Marianna Scoccia. La carta d'identità elettronica, la CIE, è già prodata anche in altri comuni della Valle Peligna, come Pratola Peligna e Sulmona. Matrimoni civili e location, la scarsa offerta cittadina di Sulmona. Approfondiamo questo argomento nel servizio di Barbara delle Monache. Sulmona potrebbe avere un ruolo importante nelle celebrazioni dei matrimoni civili, viste le importanti location, ma ad un anno dalla richiesta in comune è ancora un nulla di fatto. A sostenerlo, la celebrante laica Liana Moca, che sottolinea, ho portato la documentazione per fare matrimoni civili precisamente un anno fa all'impiegato addetto, la stessa che ho consegnato al Comune di Pratola, che invece in una settimana l'aveva messo a regime. Per Sulmona invece è un anno di nettitudine, un investimento a costo zero continua perché il Comune dovrebbe semplicemente fare le convenzioni con i privati o enti che gestiscono luoghi appropriati per queste cerimonie. E ne parlo perché invece in altre città si fa e non mi metto a fare l'elenco. Penso che questa sia una battaglia che debbano fare gli operatori commerciali, battere i pugni e far muovere questa amministrazione paralizzata e cieca. O vi muovete o ve ne dovete andare a casa. Ci va giù pesante Moca, che sottolinea quanto il nostro paese sia richiesto per le nozze di innamorati stranieri che guardano l'Italia come un posto da favola. I numeri parlano chiaro, dalle 50 alle 100 persone che pernoterebbero in città per almeno 3-4 giorni. Questo chiaramente include tutto ciò che gira intorno ad un matrimonio, trucco, parrucco, fotografo, ristorante, fiorai e confetti. Insomma bisognerebbe lavorare a detta di Moca per approfittare di un business che potrebbe dare molto alla città e al territorio. Adesso ci occupiamo di calcio perché ci sono novità. In casa Nerostellati Pratola si allarga la base societaria con l'ingresso del blocco dirigenziale del sagittario Calcio A5 che non è stato iscritto alla Serie B. Approfondiamo dunque questo argomento dopo un lavoro condotto sotto traccia negli ultimi mesi. Si concretizza l'allargamento della base societaria e dirigenziale dell'USD Nerostellati 1910. L'attesa fumata bianca è arrivata nella mattinata odierna con l'incontro tra Gianluca Pace che resta al timone della società calcistica Pratolani in qualità di presidente e i neodirigenti nerostellati che provengono come dicevamo dal blocco dirigenziale del sagittario Calcio A5 sbarcato nella dimensione nazionale e andato vicino all'approdo in serie A2. Un'esperienza interrotta dalla mancata iscrizione del sagittario al campionato di Serie B 2018-2019 che sarebbe stato il terzo consecutivo nella prestigiosa categoria per il club Pratolano di fatto tra i più longevi d'Abruzzo in virtù dell'affiliazione alla FIGC datata 7 luglio 1997. Un epilogo dunque dovuto alle difficoltà nel reperire sponsorizzazioni indispensabili per ricostruire un budget economico in linea con gli standard della Serie B oltre che alla mancanza nel territorio cittadino di un impianto sportivo omologabile per la stessa categoria. Tuttavia la matricola federale che racchiude il patrimonio sportivo del sagittario Pratola potrebbe essere tenuta in vita con l'iscrizione al prossimo campionato provinciale di Serie D che farebbe proseguire l'ultraventennale attività della storica società pratolana di calcio a 5. È stata dunque una scelta ponderata da parte del presidente Giovanni Tarantelli che insieme ai suoi stretti collaboratori Salvatore Zavarella e Giovanni Pizzoferrato entra nell'USD Nero Stellati in 1910 presente in astri di partenza del prossimo campionato regionale di eccellenza con la squadra affidata all'allenatore Cristiano Colella anche lui Pratolano Docche. I nuovi dirigenti affiancheranno il presidente Gianluca Pace e i suoi collaboratori alla guida di una società maggiormente strutturata rispetto alla recente e in fausta stagione in Serie D. Sul fronte squadra a breve dovrebbero arrivare gli ingaggi dei portieri Filoti Baldi ex sagittario Pratola Calcio a 5 e Alfredo Meo per lui un ritorno come estremo difensore oppure nel ruolo di preparatore che proprio ieri hanno svolto un allenamento sotto la guida del preparatore Salvatore Puglielli mentre proseguono i lavori sul manto erboso dello stadio Ezio Ricci che nella prossima stagione riabbraccerà i Nerostellati 1910 e i loro sostenitori. E ci lasciamo dunque con queste novità in Casa Pratola non ci sono altri aggiornamenti possiamo così concludere questa edizione del giorno del nostro telegiornale grazie della cortesa attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 sul canale 18 delle digitali terrestre in streaming sul nostro sito www.ondatv.tv oppure anche sulla nostra pagina facebook grazie per essere stati con noi ci salutiamo con il meteo buona giornata sulla nostra regione condizioni di cielo sereno poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi in attenuazione in serate in nottata. Temperature in aumento specie nei valori massimi venti deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera a regime di prezzo altrove mare generalmente poco mosso o localmente mosso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti